Noi te, c'è un uomo che ti tiene un pochino! Sì, a mozzi di apporti non fare cazzate, signori! Me li cacciano per le vostre acconti, se siete tutti circondati! Dove l'hai detto? Resta qui o no! Oh, mi prego, ma farmi di dare il padre! Ma che è il mio figlio! Vediamo se mi erano con questa situazione in stato! Non ce ne erano, mi contegnerò la verifetta! Noi andiamo via con il mio figlio e lo lasciamo il piloto all'istanza da qui! Ubbieti, espetti, ubriutico! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no!